Salve, come va? Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati che avevo intenzione di costruire qualcosa nel punto dove mi trovo e qualcosa ho costruito. Qualcosa. Ecco voi. Questa diventerà la mia fucina della magia. Infatti qui ho intenzione di costruire orne, come vedete, e al piano di sopra ho l'intenzione di costruire il tavolo dell'immigrantesimo. Allora, ora c'è il problema, è che non mi ricordo come si fa, quindi mi ricordo c'è un nuovo diamante e quattro blocchi di ossidiana e un libro. Ora, il problema è come deve essere posizionato. Questo sicuramente è un modo sbagliato. Allora, proviamo a segnalarli, mettendo così. No. Sono dentro di... che non mi ricordo più o meno era questa, veniamo un po' così. Ah, ce l'ho fatta, finalmente. Non è che non mi ricordavo, non è che ci gioco spesso a questo gioco, quindi non so tutte le meccaniche. L'ho visto qualche volta, mi tropevo che l'ha fatta, però non mi ricordo. Allora, ora devo posizionarlo al centro. Ecco, vediamo un po' se a cosa va bene. Ok, sì, funziona. Allora, qui si mettono gli oggetti. Vediamo un po'. Sì, tutto il regolo. Eh, già, mi servono in un abisgastro che non l'ho trovati. Comunque, in questi giorni dovrei andare in miniera e per trovarne sicuramente. Anche a costo di scegliere proprio, però comunque cercherò di trovarli. Anche se più o meno cuore di trovarli a culo. Interessanti piccoli, mi seguo sempre lo sguardo. Ok, adesso devo costruire le biblioteche. Allora, se non mi ricordo male, per fare la biblioteca ci voglio legno e libri. Però per fare i libri ci vuole carta e penne. Per cui, penso proprio che dovrò cominciare a mettere una parte del cuoio e prendere delle canne a zucchero. Con cui si dovrebbero fare la carta, saranno miscolate. Io ne ho già piantate una discreta quantità di canne a zucchero. Il problema è che bisogna vedere se sono cresciute. E tu che ci fai qua fuori? Tu stai fuori e fai una burta fine. E rimanere lì. Ok, andiamo a vedere un po'. No, vi porto a vedere la mia coltivazione di canne a zucchero, sperando che ce ne siano abbastanza. Sì, ce ne sono abbastanza, sì, perché ormai che non so crescere ancora. No, non è come caso di fare un po' di vita, aspettiamo che siano cresciute più, così facciamo solo viaggi. Però, mi sono accorto che bisogna, dall'ultima volta, andare a mangiare tutti, però non è che mi ce ne restano molti, quindi forse è il caso di incominciare a andare a prendere dei semi e fare un po' ingruppare le mie galline. Allora, prima togliamo queste, andiamo un po' così, me la fai a una, arrivo qui a sopra, tre sotto e tre lì, mi sarebbe spaventato, uno, due, e tre. Sì, io ce l'ho fatta, mi ricordavo bene. Ok, solo uno, penso che ce ne vorranno molti di più. Vediamo quanto cuoio, un pochino, un pochino di cuoio, eh no, devo, ce ne serviva ancora parecchino di cuoio. Ma ciò per il momento, il fatto di dire una biblioteca, la rimetto in secondo piano, soprattutto per l'effetto che io sento quella bella musicetta che mi fa capire che ci sta qualcosa in all'inco. Allora, tutto, il colorante, i semi, e adesso dovremmi andare a mangiare le galline, quasi tranquillamente, ma se il taglio ce la faccio. Non dovrebbero esserci fatti in giro. Comunque, se dovessero arrivare i roppicoglioni, so già come metterli a posti. Sa spada che le infi, sa spada che le infi, lo su di pure. Allora, signore, è arrivata la pappa. Forse, venite a me. Forse, dai, mangiate. Forse, ragazze, ingroppatevi come se non ci fosse un domani. Forse. Ci mangio qualcuno? Forse, forse, devo finire tutti i semi. Mangiate. E godetene tutti. Questo è il mio seme, offerto in sacrificio per voi. C'è ne basta qualcuno che ancora non ha mangiato? Tu, tu, forza. Dai, vi doi finire i semi. Forse, mangiate. Forza, mangiate. Vai, tutte. Forza, ok. Tu, tu, tu. E anche tu. Ci è rimasto qualcun altro? Dai, gli ultimi fai segni, forse. Vabbè, vediamo un po' se mi da qualcosa. Un cazzo, vabbè. Staprossima volta sarà. Sì, vi vado a mangiare alle galline. Ma forse è il caso che ho dovuto mangiare prima, ho dovuto mangiare prima ai manchi. Ma non mi fa la pelle, quindi si dovrò riprodurre e fare dei finti. Se no, non se ne ammazza nessuno a fine di... Sì, sono stati usciutori. Però... Dappi un po' di grano e vediamo da mangiare anche ai... C'era un grano, sì. Non è male. Non dovete controllare quanto grano mai ripassano i campi. Forza ragazze, è il momento di ingrupparsi. Non occupate, non ve lo maggiori a tutti. Partecipo anch'io alla festa. ora entro dentro, se riesco a uscire, entro dentro, ragazze, e si ha orgia, calma, ce n'è per tutti, calma, ragazze, non c'è bisogno che viene in tutto il corso, calma, ce n'è per tutti, mangiate, mangiate, godetene tutti, ingroppate, forza, tutte insieme, appassionatamente, oh, quasi ma quello che mi sto ingroppando io, calma, oh, ne ho notte di partecipare oggi, a meno in un videogioco, mangiate, mangiate, ci ne bastano ancora 9 pezzi, forza, sono sicuro che siete più di 29 pezzi, dai, forza, mangiate, 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 trombate, trombate e mangiate, ancora, forza, vai, vai, ancora due, vai, forza, ragazze, forza, ci stiamo occupando, ah, ecco, e tu, ok, ecco fatto, allora, fermato un attimo, perché devo fare una cosa, allora, dove l'è rimasto, ah, sì, vado a mangiare a queste, adesso ho tutto a posto, e già ci siamo, andiamo un po' a ripulire la straterra dagli strunzi, vediamo un po', se riesco a beccarlo al nuovo, colpito, strunzo, testa di cazzo, os, ok, ciao, 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 quando vedo il discorso che l'ho fatto, un'altra volta non l'avete capito, eh, vi ho detto che da queste parti non dovete venire a volte di con noi, specialmente tu, vi ho detto che sia un po', se vi decidete di andare via alle balle, ciao, crippo, perché il giorno è un po' fattile, bravo, scusate a me quando sembra che ci parli, ma ho sempre paura che il numero di questi strano si immagini dietro, letteralmente, Ah, ecco il piccolo stronzo, che si è buggato vicino alla roccia. Raffanculo! Quanto li detesto questi, mamma mia, quanto li detesto! Ciao, scheletro! E anche tu sei fuori gioco! Mazzamomice che stanno! Va bene! Raffanculo! E tu, che ti per quanto? Ragazzi, c'è un nuovo scelitto in città! E poi dovete andare gentilello qui a panculo, punto! Sar e fin, guardatevi tutti a voi a fare il cuglio! Cazzo! Fuoco! Cazzo! Merda! Ah, la mano si è spento! Ah, la corazza di diamante a quanto male è buona! Oh oh, Enderman! E questo che cosa significa? No, gli Enderman! La pose, che cosa è successo? Mi sto guardando, si vede che praticamente devo essere molto vicino ad essere... Ah, quanto di danni! Oh oh, uno bardardo loro! Bene! Quindi? Ancora? Trovo qui! Quattro? Sì, quattro sufficienti, ok! Vediamo un po' se ci stanno altri sufficienti... Sì, ce ne stanno! Vediamo, vicino piano piano all'Enderman! Non mi caga! Evidentemente vorrei proprio fissarlo negli occhi, proprio così di pro... Sì, non mi cagano! Ah già! Non mi cagano! Perché i coi d'hai non mi attaccano? Oh oh, bello! Che sia la luce che li blocca! Può essere, vedremo! Ma ci stanno un po' troppi Enderman che stanno pascolando a quel turno! Oh, l'ho scappato! Allora è vero questa cosa che quando vuoi scoppiare il creeper di schienet, la maccia mostra, scappate! Palle! Tutti questi! Prendete per la pappa! Oh! Fuori! Ah! Finalmente! Attenzione a sti buche! Mi stanno riempendo il buco del terreno! Oh! Scheletro! Che vuoi fa? Tanno, hai capito? Ormai non ci sa niente da fare! Schiatti! Schiatti facili! Sì, lo so, è un... Non dovrei sprecare! Oh! Schiatti! Meno male! Non metterlo! Oh! Ma che mi stanno bormandando? Oh! Calma, ragazzi! Mo' mi avete fatto impazzare di tutto! Mo' l'ha pagato! Mo' mi faccio un altro! Ragazzi! Mo' mi faccio male! A tutti quanti! Mi faccio molto molto male! Vai! Ho tutti i coglioni! Aspetta! Cui tu! Vai! Levatevi dalle pal- Cazzo! Ho beccato vendermi! Tranquillo! Cui tu! Tranquillo! 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 Stanno facendo... Amma roba! Stanno sparando da tutte le parti! Io sono andato! Ok! Conuto! Va tranquillo! Fuori! Fuori dalle balle! Vai! Ok! Stasera da... Oh! Sta prendo da me! Che bello! Vieni qua! Vieni qua! Ecco qua! Ti è piaciuto? Ecco! Ma adesso non ho commestato troppo vicino! Ok! Se te ne andavi... E chi è questo? Goldman? Tranquillo! Un! Due! Ma che pezzetto! Non manca un pezzo d'armatura d'oro! Sia che... Non che mi sembra! Però almeno... La metterò appesa sopra... Le rastrini... Le... 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 Ciao, Frippo! Fanculo, Frippo! Vaffanculo, Frippo! Vaffanculo, Frippo! L'anima dei mortacci tuoi, Frippo! Tu muori! Tu muori, nave! Mi stanno riempendo di nuovo il terreno! Stai a estericazzo! Ah, è scoppiata con la scheda per la vicina! Bene! Allora, la scheda non è scoppiata insieme! Stai a guardare che queste le possono servire... Ok, terra presa! Quindi, livello presi! Prendiamo tutto! E probabilmente dopo devo attattare questo cazzo di buco! Prendiamo tutto! Ok, questo... Sembra... Che è questa qua? Scusate un attimo! Urite! Ah, bene! Ok! Questa mi serve! Eh, va bene! E' stata una nottata interessante! Beh, visto che non ho dormito e visto che sono pieno di forze... Se vorrei sapere che si iscrivete il suo zoom dove cazzo stava... Facciamo una cosa... Guarda, sono cresciute! Prendiamole! Perché il legno mi servirà molto per fare le... Quelle... Prendere... Prendere tutto! Prendere tutto! Senza problemi... E senza di più! E altre cose! Ok! Anche questa è fatta! Sto pensando una cosa... Tengo molte ossa! Vabbè, questa parte... Degli alberi che devo... Mi domande di dire che ve la taglio! Ok! C'è çok c'è зв Non è questo! C'è dellaeringektua? Li Dunne eigenlijk attaスopo! Non è senza sait... 所以... Now... Imi affgoriamo! C'è gu官o? Un po' Un po' Grazie a tutti. Allora, più che talla gli alba l'ho velocizzata. E adesso mi posso dedicare a ripiantare tutto quello che... tutto il gioco che ho raccontato. Però stavo pensando in una cosa, vorrei fare un esperimento, che potrebbe anche essere interessante. Ho molta farina, ho molte ossa, quindi posso fare una farina d'ossa. Per cui, se metto quattro germogli uno a fianco a tutti, quattro germogli uno integrato, non dovrebbe fare... dovrebbero crescere quella farina d'ossa. Potremmo venire invece di ossa, facciamo questo esperimento. Spero che non faremo cazzata. Ho bisogno. Sì, bisogno. Ah, uno è cresciuto qui. Dai. L'altro. Ok. Dai. Quanti ce l'hai moglie? Ve lo devo andare qui. Fatto. Ok, ce l'ho fatta. Cazzo quanto è grosso. Ok. E' scesa la notte. E' sicuramente quasi un po' come una raga di scherzo così. Per cui... Sapete che faccio? Grazie a questo alberello qui appena costruito... Aspetto qua la notte. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Vi raccomando, se il video è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Se volete iscrivervi a questo canale, ok. Se volete iscrivervi a questo canale, ok. Se la vita vi piace, com'è, ok. Se praticamente ci sta qualche ragazza che viene interessata, a me telefono, come al solito. Ciao, ciao!